Apparecchio alla morte, ovvero considerazioni sulle verità eterne di Sant'Alfonso Maria dell'Iguori Utili a tutti per meditare e ai sacerdoti per predicare Adattamenti in lingua corrente, introduzioni e note a cura di Paolo Arrigo Orlandi Introduzione Tra le opere di Sant'Alfonso Maria dell'Iguori l'apparecchio alla morte occupa un posto importante Il titolo originale, Apparecchio alla morte cioè considerazioni sulle verità eterne utili a tutti per meditare e ai sacerdoti per predicare esprime senza mezzi termini lo scopo principale dell'opera Prepararsi alla morte, meditando sulle verità eterne cioè sui novissimi, forse passati di moda ma non per questo meno attuali che nei secoli scorsi Oggi infatti non si parla quasi più di morte, giudizio, inferno e paradiso Sono argomenti sfiorati solo marginalmente anche durante la predicazione domenicale nelle chiese e costituiscono una specie di tabù per l'odierna società del consumismo e dell'efficientismo La morte è negata sia al malato che non deve sapere cadendo così in una pericolosa illusione sia ai parenti che tentano di rimuoverla Ai tempi di Sant'Alfonso la situazione non era molto diversa Allora come adesso, chi si avvicinava alla fase terminale di una malattia scopriva non di rado di essere del tutto impreparato La posizione del santo è radicalmente diversa È inutile, anzi dannoso, rifiutarsi di pensare alla morte perché morire bene è un atto che non si improvvisa ma richiede una preparazione adeguata durante il tempo della vita Riflettere sulla morte oggi per prepararsi a morire bene domani Anche in quest'opera emerge la caratteristica fondamentale della spiritualità alfonsiana L'apostolato della parola Le 36 considerazioni assumono la forma di un discorso che il santo rivolge al lettore senza farsi pudori in modo colloquiale Ciascuna considerazione si articola in tre punti inframezzati da preghiere e invocazioni di straordinaria vivezza che sono specchio degli ardenti sentimenti di un vero innamorato di Dio Le considerazioni iniziali pongono subito il lettore di fronte alla morte e indugiano con crudezza a descrivere la corruzione dei corpi la caducità della vita e il terrore della morte Successivamente viene proposta un'ampia serie di spunti per la riflessione che trovano il culmine nelle pagine dedicate al giudizio particolare e universale e alle ultime realtà inferno e paradiso Con toni appassionati, Sant'Alfonso dipinge un affresco grandioso dell'ultimo giorno e racconti i tormenti dei dannati e le delizie del regno dei cieli In immagini che oggi possono apparire anche ingenue ma non perdono nulla della loro potenza evocativa In ogni caso, tutto ciò svolge una funzione ben precisa nell'economia dell'opera La trattazione dei Novissimi, infatti, non è fine a se stessa ma ha lo scopo di condurre il fedele al graduale distacco dai beni della terra fino al perfetto amore di Dio Si tratta di un itinerario ascetico non facile, ma possibile che raggiunge l'apice nell'espressione più intensa dell'amore cioè conformarsi perfettamente alla volontà di Dio La semplicità del linguaggio adottato unita a una profonda sapienza e conoscenza dell'animo umano ha lo scopo precipuo di raggiungere tutti anche gli strati meno colti della popolazione Tuttavia molte espressioni e lo stesso modo di scrivere usato dal santo sarebbero oggi di non facile comprensione e in qualche modo un po' distanti dalla sensibilità dell'uomo contemporaneo Ho realizzato perciò la prima versione in lingua italiana moderna del testo originale senza tradire ovviamente il pensiero del santo e mantenendone intatto lo stile appassionato e vibrante Il mio intervento è avvenuto principalmente su due fronti sostituire con termini più appropriati le parole cadute in disuso che oggi hanno mutato significato o sono incomprensibili spezzare frasi particolarmente lunghe che potrebbero risultare faticose da leggere anche se il loro senso è chiaro Inoltre allo scopo di rendere maggiormente accessibile l'opera ho tradotto tutte le numerose citazioni latine riportando il testo originale in nota Si contano a centinaia i passi tratti dalla Bibbia e sono molti anche quelli provenienti dai padri della Chiesa e da autori del Medioevo o contemporanei allo stesso Sant'Alfonso Il santo utilizzò la Bibbia che poteva avere più facilmente a disposizione è la celebre vulgata versione latina alquanto libera rispetto ai testi originali preparata da San Gerolamo nel V secolo e integrata da altri interventi Da parte mia, per la traduzione italiana e per le abbreviazioni dei singoli libri mi sono affidato alla Sacra Bibbia edizione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana a cura dell'Unione Editori Cattolici Italiani Roma 1974 che offre la traduzione dei testi originali e non della vulgata Dal momento che questa traduzione è ormai entrata nell'uso liturgico il lettore ritroverà adunque le citazioni bibliche così come è abituato a sentirle Ho utilizzato anche un prezioso testo di consultazione sulla vita e le opere di Sant'Alfonso Il lavoro di Alfonso Capecelatro Vita di Sant'Alfonso Maria del Liguori Tipografia liturgica di San Giovanni Roma 1893 in due volumi Quest'opera scritta più di 200 anni fa ponendoci di fronte ad una realtà scomoda e indicando i mezzi per affrontarla con fede ha senz'altro molto da dire anche all'uomo contemporaneo La vita e le opere di Sant'Alfonso Maria del Liguori La vita Alfonso Maria del Liguori nacque a Marianella presso Napoli il 27 settembre 1696 primo genito di Giuseppe del Liguori e Anna Cavalieri I suoi genitori di antica e nobile famiglia erano profondamente religiosi Dei loro otto figli ben cinque si consacrarono al Signore Il padre desiderava che Alfonso diventasse avvocato o magistrato e gli fece compiere gli studi non presso scuole pubbliche ma privatamente nella casa di Napoli sotto la guida di prestigiosi maestri Il giovane era molto dotato tanto che si iscrisse all'università superando l'esame di ammissione con tre o quattro anni di anticipo rispetto ai suoi coetanei e nel gennaio del 1713 a soli 17 anni riuscì a conseguire la laurea in utroquo iure nella legge civile e canonica Si dedicò quindi a perfezionare la sua preparazione giuridica frequentando illustri giure consulti e storici napoletani dell'epoca e ben presto iniziò una brillante carriera professionale che in breve lo avrebbe portato a essere uno dei più noti avvocati della città fino a diventare giudice Negli anni successivi tuttavia alcuni episodi segnarono profondamente la sua vita La giovane di nobile origine che il padre voleva dargli in moglie si fece monaca di clausura e morì dopo poco tempo Durante un processo clamoroso tenutosi a Napoli nel 1723 Alfonso perdette una causa di estrema importanza subendone un durissimo contraccolpo per cui disgustato meditò di ritirarsi dalla vita professionale Inoltre nello stesso anno ebbe un'esperienza mistica che lo indusse a rinunciare ai diritti della primogenitura e ad abbracciare lo stato ecclesiastico Intraprese allora gli studi teologici in vista dell'ordinazione sacerdotale che ricevette a Napoli il 21 dicembre 1726 Trascorse gli anni seguenti in un intenso apostolato soprattutto a favore dei poveri della sua città i cosiddetti Lazzaroni Nel 1730 Alfonso fu inviato a Scala vicino ad Amalfi dove si dedicò con altrettanto fervore all'assistenza materiale e spirituale della popolazione più misera e derelitta Intanto andava maturando la sua realizzazione di un grande progetto Creare un ordine religioso che avesse lo scopo di portare la salvezza soprattutto ai più diseredati conseguendo in tal modo la santificazione dei propri membri Nel novembre del 1732 il santo fondò la sua congregazione che poteva ampliarsi ed estendersi anche al di fuori del napoletano dopo un inizio assai lento e non privo di difficoltà in un'epoca molto ostile agli ordini religiosi La regola fu approvata dal Papa Benedetto XIV il 25 febbraio 1749 insieme al nome definitivo di Congregazione del Santissimo Redentore L'intento principale dei membri i padri redentoristi è quello di imitare Gesù Redentore dell'uomo portando alla santificazione di se stessi e degli altri in modo particolare di coloro che sono maggiormente privi di assistenza spirituale Oggi i redentoristi sono diffusi sia in Italia sia in numerosi altri paesi del mondo Per trent'anni Alfonso si dedicò con grande saggezza e passione a dirigere e a diffondere la sua opera fino al 1762 quando venne nominato vescovo di Sant'Agata dei Goti una diocesi molto povera nel Beneventano esercitò il suo ministero soprattutto a favore dei più bisognosi ma continuò a governare in prima persona la vita della congregazione dopo tredici anni di episcopato durante i quali si distinse per lo zelo nella predicazione e nell'attività pastorale le sue cattive condizioni di salute lo costrissero a rassegnare le dimissioni nel 1775 si ritirò pertanto nella casa di Pagani vicino a Salerno dove avrebbe potuto ricevere dai suoi figli spirituali l'assistenza di cui aveva bisogno negli anni seguenti dolorosi contrasti con l'autorità civile ed alcuni interventi del Papa nella vita della congregazione gli furono causa di profonde sofferenze morali il santo tuttavia le sopportò con infinita pazienza dimostrandosi sempre obbediente alla volontà del pontefice anche la malattia un'artrite deformante andò gradualmente peggiorando e gli provocò molti patimenti tra cui una grave diminuzione della vista e dell'udito negli ultimi anni si trovò persino nell'impossibilità di celebrare la messa in questo periodo estremo della vita Alfonso ebbe modo di dimostrare ampiamente le proprie virtù eroiche mantenendo una perfetta serenità e rassegnandosi alla volontà di Dio anche nelle circostanze più tristi morì il primo agosto 1787 la notizia della sua santa morte si diffuse immediatamente e già l'anno successivo iniziò il processo di beatificazione la causa precedente non senza qualche difficoltà e finalmente il 26 maggio 1839 Alfonso Maria delle Liguori fu elevato agli onore degli altari dal pontefice Gregorio XVI nel 1871 Pio IX gli conferì con l'apposito decreto anche il titolo di dottore della chiesa le opere Sant'Alfonso esercitò con rara passione e fede profondissima il ministero della predicazione dando forte impulso a due principali forme di apostolato le missioni popolari cioè cicli di meditazioni predicate nelle parrocchie o nei paesi e gli esercizi spirituali diretti in modo specifico ad una particolare categoria di fedeli sacerdoti suore seminaristi eccetera fin da giovane il santo fu un predicatore instancabile ed appassionato anche le numerose opere che lasciò testimoniano l'ardore con cui annunciava la parola di Dio per essere comprensibile a tutti fece uso di un linguaggio semplice la sua abbondante produzione comprende più di un centinaio di scritti che si possono suddividere in tre grandi gruppi le opere ascetiche le opere morali e pastorali e quelle dogmatico apologetiche considerando la grande fortuna che esse hanno incontrato non solo in Italia e le migliaia di edizioni e traduzioni preparate fino ad oggi si può affermare che Sant'Alfonso è probabilmente uno degli scrittori di opere religiose più letti e conosciuti le principali opere ascetiche sono Massime Eterne breve opuscolo che ebbe oltre mille edizioni canzoncine spirituali raccolta di canti tra cui la famosissima Tu scendi dalle stelle e O mia bella speranza Le glorie di Maria 1750 opera di grande impegno dogmatico tradotta in molte lingue uniformità alla volontà di Dio 1755 scritto chiaro e appassionato sul vero amor di Dio Apparecchio alla morte 1758 Il gran mezzo della preghiera 1759 opera di piccola mole ma densa di contenuti dogmatici Pratica di amar Gesù Cristo 1768 itinerario di ascesi per arrivare alla perfezione della vita cristiana Tra le opere morali e pastorali citiamo solo la più importante la Teologia Moralis del 1753 ampio trattato su tutte le questioni morali allora conosciute che rese celebre l'autore tra i teologi contemporanei Nel gruppo delle opere dogmatico-apologetiche ci sono trattati opuscoli a difesa della verità della fede cattolica e a sostegno dell'autorità del Papa le più note sono la verità della fede l'indice proe suprema romani pontifici s'autoritate il trionfo della Chiesa all'Immacolata e sempre Vergine Maria alla piena di grazia alla benedetta fra tutti i figli di Adamo alla colomba alla tortorella alla diletta di Dio onore del genere umano delizia della Santissima Trinità casa d'amore esempio di umiltà specchio di tutte le virtù madre del bell'amore madre della santa speranza e madre di misericordia avvocata dei miseri difesa dei deboli luce dei ciechi e medico degli infermi ancora di fiducia città di rifugio porta del paradiso arca di vita iride di pace porto di salvezza stella del mare mare di dolcezza donatrice di pace ai peccatori speranza dei disperati aiuto degli abbandonati consolatrice degli afflitti conforto dei moribondi e letizia del mondo un affezionato e amante benché meschino e indegno suo servo quest'opera umilmente consacra fine dell'introduzione ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti